barra inversa. Torino non ti possiamo insultare perché non ti fanno giocare, è il testo dello striscione esposto al secondo anello della curva maratona. Il tifo più caldo del Torino, contro Andrea Belotti. L'ex capitano è stato accolto da cori e insulti dei suoi ex tifosi. Con Mourinho che ha deciso di escluderlo dai titolari della sfida all'Olimpico Grande Torino.